L'Avezzano esce a mani vuote dal Pacifico Carotti di Iesima grazie ai risultati delle dirette concorrenti. Festeggia con 90 minuti di anticipo la permanenza in Serie D senza dover attendere così i risultati dell'ultima giornata quando al Dei Marsi arriverà la Re Canatese. In terra marchigiana ci si attendeva però francamente di più da bisegni e soci che hanno trovato di fronte una Iesina molto determinata e decisa a non regalare nulla nonostante la mancanza di grandi stimoli. Premiato prima del match il capitano marchigiano Marco Strappini alle 250 presenze con la casacca bianco rossa e oggi ai saluti dopo 10 stagioni con la Iesina. Si inizia sotto una leggera pioggerellina in un clima più autunnale che estivo. Al secondo Giavezzano pericoloso con un tiro di bisegna deviato in calcio d'angolo da bolletta. Al decimo la risposta locale affidata a Trudo che lanciato da Cardinali in area marsicana alza di poco sopra la traversa. Al sedicesimo di Curzio sul filo del fuorigioco alla più ghiotta delle occasioni calciando però addosso a bolletta che salva. La gara è vivace al ventesimo e Cardinali di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo a mancare di pochissimo il bersaglio grosso. I marchigiani senza grandi assili di classifica non regalano nulla ai ragazzi di mister Lucarelli che solo a sprazzi riescono a rendersi insidiosi con il terreno allentato per la pioggia che non agevola di Genova e compagni. Al trentasettesimo tocca a Bisegna su punizione impegnare bolletta. Un minuto dopo è Persia in area a farsi anticipare ma il vantaggio dell'Avezzano è solo rinviato e arriva poco dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo quando Persia tocca il pallone che Censori deve solo spingere in rete per l'uno a zero. Ma la gioia del vantaggio dura pochi giri di lancette perché la Iesina pareggia al 45esimo con Pierandrei che di piatto sugli sviluppi di un angolo mette alle spalle di Di Girolamo che dopo un minuto viene infilato per la seconda volta con un tiro violento di Cardinali. Per l'Avezzano è un finale di tempo da doccia gelata. Si ricomincia nella ripresa al sesto con una bella azione di San Paolesi che in area si gira e crossa sul secondo palo dove Pierandrei non riesce ad intervenire. Al settimo Censori ci riprova quasi in area piccola ma il suo tiro viene murato da fatica. Proteste marsicane al nono quando in area marchigiana fatica dopo un contrasto dubbio forse tocca il pallone con la mano poi termina a terra Censori con l'opriore di Foggia che lascia proseguire il gioco. Ma la squadra di Bugari è più che mai motivata e in contropiede al ventiduesimo va a segnare con Carnevali il gol del 3 a 1. La reazione ospite vede al ventisettesimo un tiro violento di Di Cursio respinto da Bolletta e poi il forcing finale dell'Avezzano con al ventinovesimo la traversa di Censori e poi al trentunesimo il gol di Pasquale Moro che riapre la gara e che al trentacinquesimo chiama ancora al miracolo Bolletta che salva distinto prima del 4 a 2 firmato ancora da Cardinali che in contropiede entra in area scarta anche di Girolamo e mette in rete la palla che chiude definitivamente il match e al novantunesimo squadra marsicana sotto il settore dei propri tifosi tutt'altro che soddisfatti per la gara appena conclusa. Non abbiamo regalato nulla, noi eravamo concentrati nel fare la nostra partita, non penso che c'era da regalare nulla l'Avezzano perché comunque è una squadra che ha dimostrato soprattutto l'andata di essere uguale a noi se non meglio quindi ce la siamo giocata come abbiamo fatto altre volte in casa, come abbiamo fatto domenica scorsa, domenica prima e cinque giornate fino ad oggi che abbiamo raggiunto la salvezza e domenica a Chieti proveremo uguale a fare la nostra partita. Ramarico per essere arrivati a pochi punti della zona playoff? Ramarico dipende da come si vede il bicchiere, io lo vedo tutto pieno e anche di più, poi dopo se guardi la classifica magari un pochino di ramarico ci può stare. Lucarelli, salvezza con 90 minuti d'anticipo però probabilmente ci tenevate a chiudere questa partita con un risultato diverso. Eravamo partiti molto bene sì perché secondo me oggi stavamo facendo bene, abbiamo avuto diverse occasioni per fare l'1-0, poi siamo andati meritatamente in vantaggio e poi siamo ricascati dei nostri errori soliti quest'anno che ci hanno condizionato tantissimo l'andamento fuori casa. Resta questa fragilità della squadra lontano dal De Marsi, perché? Ma questo adesso sarà compito mio capire, analizzare a fine campionato, naturalmente la responsabilità è la mia, la dividere naturalmente con la squadra, allo stesso tempo dobbiamo guardare le cose positive che sono state tante, avere un bel ruolino in casa, aver fatto delle grandi partite, essere tornati in serie di dopo 15 anni, aver mantenuto la categoria, aver dato un giocatore alla Juventus, essere arrivati terzi nella valorizzazione e poi c'è questo neo delle partite fuori casa che se migliorato può far fare un salto di qualità all'Avezzano. Il termine della partita i tifosi dell'Avezzano non erano molto contenti di questa prestazione, della prestazione della squadra? È giusto che i tifosi abbiano un po' contestato oggi il nostro operato perché potevamo decisamente fare meglio con una squadra già salva.